Musica Beh, che dire, direi benissimo Dopo rientro da un infortunio, dopo due anni, vincere una mancia non ha uguali Musica Da prima si sono partito non tanto bene, mi pare ventesimo alla prima curva Sono riuscito a recuperare fino alla quarta posizione, niente male La seconda invece sono partito davanti a tutti, sono riuscito a rimanere davanti a tutti Musica Musica E' stato duro tenerlo dietro, mi era proprio peccato Ce l'ho messa tutta per riuscire a tagliare il traguardo che ho per prima e ce l'ho fatta Musica Sono contento perché porto in alto i colori della Val d'Aosta, che siamo pochissimi E per me è una grande soddisfazione Musica Musica